Il GAL Vallo di Diano nella serata di ieri ha informato i sindaci del comprensorio sull'esito dei lavori per la definizione della prossima strategia. Ad ospitare l'incontro la sede della comunità montana Vallo di Diano, un confronto che, come spiegato dai referenti dell'ente presieduto da Angela D'Alto, rientra nella fase preliminare di definizione della strategia che la Regione Campania ha inteso riconoscere ai GAL come sostegno preparatorio, a cui seguirà poi la pubblicazione del bando che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane per proseguire nell'azione di promozione e sviluppo locale a cui lavorano i GAL. È stata la presidente dell'ente Angela D'Alto ad introdurre lavori a cui hanno preso parte diversi sindaci e rappresentanti comunali che ha anche anticipato a grosse linee quali sono state le scelte dell'ente in riferimento agli ambiti che si intendono sostenere in vista della programmazione dei fondi 2023-2027. Oggi concludiamo, diciamo così, idealmente questa fase di ascolto del territorio e ovviamente la concludiamo alla comunità montana, con la comunità montana e i sindaci ai quali renderemo noti i risultati di questa prima fase e con i quali condivideremo naturalmente la scelta dei due ambiti che sosterremo come GAL e che saranno poi il centro della nostra azione per la strategia 2023-2027. Io penso che tutti gli incontri che abbiamo fatto ci hanno restituito comunque degli spunti di riflessione molto importanti che riguardano il Vallo di Diano, le singole comunità, a prescindere, come diceva lei, dai singoli interventi del GAL e dalla prospettiva solo del GAL. Siamo andati poi ad affrontare vari temi, ad analizzare varie situazioni, quindi dall'agricoltura al sostegno alle piccole e medie imprese, al turismo, fino all'ultimo convegno che abbiamo svolto sulle comunità energetiche. Tutto questo ci ha consentito anche di sentire un po' il polso del territorio e ovviamente delle singole comunità. Il coordinatore del GAL Vallo di Diano, Italo Bianculli, ha illustrato e presenti il lavoro svolto dalla struttura nella fase preliminare, concentrandosi sull'ascolto del territorio, programmando incontri nei comuni e visite in azienda. I dati acquisiti, anche attraverso la somministrazione di questionari, sono stati raccolti da una sintesi di quanto emerso e stata realizzata una bozza di strategia sottoposta all'attenzione dei sindaci prima della definizione della progettazione. Italo Bianculli ha illustrato quali sono stati i suggerimenti arrivati dal territorio e che hanno consentito al GAL di individuare due ambiti di azione intorno al quale costruire la prossima strategia, ossia agroalimentare, ambiente e biodiversità, e manifatturiero e artigianale. Secondo quanto spiegato dal coordinatore e sottolineato anche dalla Presidente d'Alto, forte interesse è stato manifestato anche per il turismo, settore su cui, come spiegato dal Presidente Francesco Cavallone, sta già intervenendo l'ente montano con la DMO e per tale ragione si è deciso di non inserire l'ambito anche nella strategia del GAL, al fine di evitare accavallamenti di azioni e di risorse.